Tamponi rapidi, gratuiti per gli studenti, i loro familiari e personale scolastico. Prosegue così anche in provincia di Arezzo il servizio della Regione Toscana che permette ai soggetti interessati di sottoporsi con cadenza mensile al test per l'individuazione del Covid-19, un servizio che adesso è stato attivato anche alla Farmacia Comunale numero 1 Campo di Marte. Ogni screening su base volontaria può essere richiesto da soggetti asintomatici e prevede la prenotazione obbligatoria. Il tampone antigenico rapido permette di stabilire la positività o negatività al Covid-19 in pochi minuti. Con risultati affidabili, gli esiti verranno immediatamente inviati e registrati nell'apposita piattaforma regionale per poter far partire, in caso di contagio, tutte le pratiche necessarie per procedere al contenimento del virus. Il controllo è previsto per alunni e studenti sino ai 18 anni e maggiorenni, se frequentanti la scuola secondaria superiore, ai relativi genitori, fratelli, sorelle, familiari conviventi e nonni non conviventi, agli studenti universitari e di percorsi di istruzione e formazione professionale, oltre che al personale scolastico e agli enti di formazione. I controlli verranno effettuati da personale infermieristico professionale e in un apposito sportello isolato dal resto della farmacia, con un accesso dunque separato.